Ci troviamo a Ragusa, proprio alle mie spalle, la questura, perché questa mattina si è insediato il nuovo questore, si tratta di Vincenzo Trombadore che subentra a Giusi Agnello. Il questore ha già incontrato questa mattina la stampa, si è detto felice e orgoglioso di questo ruolo che intenderà ricoprire nel migliore dei modi per essere utile alla società. Ha detto alla stampa, vorrei essere un questore cittadino e poliziotto. Per fare questo mestiere bisogna assolutamente vivere la società, la polizia, le forze dell'ordine sono cittadini che vivono con gli altri cittadini, cittadini con antenne qualificate che devono raccogliere gli elementi, gli input che i concittadini forniscono. Quindi un cittadino poliziotto non può estrenarsi da quelle che sono le dinamiche sociali, non può distaccarsi perché così facendo non potrà poi produrre positivamente tutto l'operato delle istituzioni. Il fatto di conoscere il territorio è solamente un ritornare nella propria terra e quindi assaporare profumi che magari erano più adesso nascosti. Il conoscere il territorio lo si fa con i propri collaboratori, con i propri funzionari e si percorre tutti insieme con la loro esperienza reciproca, la mia e la loro conoscenza del territorio. Al questore sono state rivolte alcune domande, tra queste in particolare a cosa sarà data attenzione, immigrazione ma anche inclusione sociale? L'esigenza è quella che riguarda tutta l'attività collegata ai fenomeni dell'immigrazione, sono tolto gli occhi di tutti insomma, ma attenzione continuiamo a preoccuparci di tutte le altre tematiche della sicurezza pubblica che non sono solo dell'immigrazione. Poco fa lei ha fatto riferimento al discorso dei cittadini che sono distanti, cosa potrebbe e cosa si aspetta insomma in questo senso? Da parte dei cittadini mi aspetto sempre una fiducia, però per avere fiducia bisogna anche conquistarsela. Ed ecco perché ho detto che i poliziotti oltre a essere i poliziotti devono essere i cittadini, significa che devono vivere quelle che sono le evoluzioni pure anche culturali del momento, del posto in cui svolgono il servizio. Così facendo si crea una fidelizzazione importante e il cittadino stesso si sente di poter essere poliziotto per prevenire ogni forma di degrado e di sicurezza pubblica.